. 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 la mia cunaca un po' di scorsi 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 si trovi scorsi si insula poi vincita capo che non è più scarso di tutti di quelli c4 ma ci sono che chiamano su cittura visto chi perché non ha bingo sono in sottotitoli sottotitoli con un'attività di 5 ma io cazzo il concetto interesse di farci mi faccio un cazzo di bucchi in testa finisce la partita ma se non posso non ma voglio vedere no chi vuoi che prendo tutto tuo allora capa e capa la curva un'ultima che è un piccato che è un colloquio suo comico luca lascia di mettere le corozze anzi spacco io chi la prende io la prendi te per aprire le corazze mi raccomando è il posto importante dopo ci saranno più grazie per tutti qualunque non devi pagare ma perché tu pensi che non mi ha rifattato in colpi ti possono attraverso tu si che sai di corso gioco è un 38 gli altri saranno 40 2 superi 50 saranno almeno 172 anni porco il nostro piatto se te con 155 madonna qui sono tutte sopra le 70 tutte sopra le 70 bravi noi abbiamo il 38 tu si che fu usci duro di merda no l'ho cura vabbè allora vai capa 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 eh 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 ciao tu non mi ti inchili vero allora questa partita mi è maturata di merda dopo si si ah fuocamico beh si non ce l'ho 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 io non ce l'ho fuocamico neanche te si facciamo il dello no non lo rifacciamo dopo ti va io no non mi vanno non ce l'ho fuocamico ammazzo vigil che c'è un problema sta fermando i ponti la squadra d'attacco ha trovato la bomba richiesto di dai esci vai a morire tanto se hai scappato per sparare no è quella quella la si è fatto metti la cama anche i proiettili quale è utile ti vengono fra ti bello che fare di vent'anni io non ce l'ho fuocamico e che te ce l'hai capito ericsogamer erigel 32006 prep ti spaga il mio spagano tutti mi sono tutta la meno che appunto è tutto va sei capito io mi prendo una bolla tanto a poco amico e dopo c'è Riksugammer tipo please don't kill me chi? che è questo? no nessuno tipo uno te lo scrive don't kill me allora vincilo vincilo non farlo subito che se lo aspetteranno vedi a capca non ho un tono non ce l'ho io trovo è morta ok ok è vigile è una bosca port si 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 di bo e lo giochino cazzo vigil corre vigil puttana ok si 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 fallo fallo capcam fallo capcam fallo 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 poi sono un piano c'è la tua notte non sono più che non si può dire che non è più 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 Ah, fredmei. No, no. Ma mi puoi seguire andare ora? Se no mi devi killare. Io lo seguo. Tranquilo. Ah, questo è un po' veloce io. Per io. Fredmei! No, fuck, mi è scappato il suo nebro. Sto brobrobrio. Metti gemme che fatti sentai quel c4. Dio che tossico che è quella lì, madonna. Poteva di voler venire lì col tetti vegale. Certo. Dopo te. Io, io, io ho escritto del grande. Oh, uno si chiama Dicken. Il primo. Cazzo. 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 Io ho mai scattato al lato. A mal colpo. Paola per me. Che bene. Anche. Anche. Maverick. Salve al trollare. E' capitata uooo Snow Winchild. Ma non è tutta il Mike. Sopo. E questo. So in Live Code. Sopo. Eh sì. Cazzo. Sono a meno 200 punti. rispetto per i miei cinque punti il tipo più alto nel 95 sono un botto va ma che padova è vicino all'islanda che c'è mica sono sopra mamma mia allora mi fiondo dalla finestra basta sono morto il primo che muore per me è stegano per un sole non ci ha messo il focami così come questo è un botto scemo si appunto ho trovato a lui perchè non ho chiamato tra l'altro di marmo che testa eheh 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 ma molto io perchè stiamo sperando che c'è scelta non volevo mi sapevo che ho chiuso lei assisto adesso un push mi ha fatto bene occhio ai gremiaco se te vuoi vai cuo vai cuo sce fermo giusto no con te lo zwo zwo avrebbero mo la ho messi il 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 perché cazzo cpc il 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 Ringgono Perciò e non banna Uccidimi Uccidimi con... Pensando che tipo lo bannavano invece no E' durata No ma la casa bella è stata quando c'era c'era Lieko Aspetta Tipo da funny moments Si No Ritorniti a Maru Ritorniti a Maru Metto io Bo Mavic di nuovo Che è giusto? Guarda vinciamo Ha vado col pompa Sto qua da canale Tu vado qua cordone è meglio Adesso si impariamo con Eric Quanto tossica O se lanciano un gadget Ti devi fiondare addosso Minchia Troia Ho preso C'era la carica di internet Dai basta vado di fianco Così lo faccio bannare invece no Io no penso che Ti bisogna ammazzi di uno In teoria Io comunque avevo il fuoco amico Penso che qui gadget E' Quanto Un po' Ti èесто Ancora con la granatele con amore Lo cazzo sono Detail ma ho fatto giusto un diretti del senso un punto non mi sento c'è il mio amico il concetto è che quello del futuro il titolo è la venda di me gli vado dalla bombaio inizio per l'altro è un barcato assolutamente non è un bel di proprio non Ramon! Come stai Ramon? Ramon come stai Ramon? Ramon come stai Ramon? Ramon come stai? Mio fratello mio Ramon Ah che c'è ne è? It's time to launch Sperate l'area dell'esplosione! Non l'ha bannato ancora! Ma è scemo! C'è ma come cazzo fa? Dovevi venire l'impurata dovevi venire Dove è dietro lo scudo? E c'è un cico dietro! C'è un tolmico dietro lo scudo Entri con questo, mi raccomando Mamma mia amico col poppa! Signori! Che? Signori di Twitch! Plants! Come on! Ora! Instant! Toilto croppen! Croppi in testa baby Broken! Scema Stai 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 Che mi tagliata di merda ancora un botto Ci può tristare! Lo senti ci può tristare! No! Esatto! Ne voceed finare! Quando vas e sullefughe sto andando! no ama un colpo un bar basta amo un colpo un po' è illegale se ripetono male che accetto di pinto ragazzo e io giuro madonna a me mi sembra che mi ha messo finché voglio maveri ma che finca perché capita o ma pensi sia il server che infatti hanno tutti tipo un torrone per se guarda ne è uno che inizio che è se si usa termite capito entrambi sulla cosa vinte di 106 106 perché la precisione maur colpo un po' un illegale è il più che il diluco io 0 0 5 perché sono entrato a eco sono rimasto lì fermo e se che pensi che rimaniamo bloccati qua l'alto si ma è un po' bloccati e cadere formato a lungo ma fin d'uno se voglio disegno x 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 buono spero migliorate le siti progetti del bambato ci sono un botto a non spero non hanno sempre sto letto e con il merito a non guarda mamma mia quindi può benissimo aperto in me va si ah guarda si sono messi sopra lo specchio si sono messi non stai capito cosa dobbiamo fare attento lanciano che non ho fatto io mi raccomando lanciano che non ribazzo di continuare possibilmente termite è morto termite vabbè io faccio il giro da dietro no è morto termite non ci posso cadere nooo a terra una è morto di fuocamico a terra uno vabbè poi oh perie perie pe pe porca ancora doc mi stava per uccidere nonostante l'avessi messa a te a terra io ho come una terra c'è si si ok stai gaiotime ok shit basta mauro allora no mago è bestia è una bestia dio no no si spaga spaccalo spaccalo e su aiut entra no si 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 stai stai come non è esploso scusa ma ma questo è morto questo è morto ma come cazzo ah attenzione ah l'hai preso hai preso le capite Ash easy man attenzione molto attenzione il non è la tua cosa non è che si tratta oggi se non si tratta che con il dottor la nata la nata io mi giro è che veramente sta con la testa acqua Ok Che cazzo di wall venga fatto dai guarda se lo fa se lo fa non se lo fa Dio 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 E guarda guarda mira com'era Mira Nineteen Mira your mom Io ho appena 400 punti 81 punti